Eccoci tornati con un nuovo appuntamento di cronache e commenti, il consiglio regionale della Toscana raccontato dalle nostre telecamere. In questa puntata andremo ad analizzare molti temi, tra questi anche il rigassificatore di Piombino, alcune novità su questo, ma vedremo per esempio anche l'inaugurazione della restaurata Sala Gonfalone, ma come detto anche tanti altri temi, commenti dei consiglieri regionali. Come sempre vogliamo iniziare dunque dai titoli di oggi per poi andare ad ascoltare i commenti durante il nostro quarto d'ora settimanale di trasmissione dedicato alla regione toscana. Desertificazione bancaria, il sì del consiglio regionale all'osservatorio. Finanziamenti alla Fondazione Teatro Toscana, il presidente Gianni annuncia 2 milioni di stanziamento. Rigassificatore di Piombino dalla Liguria andrà in Calabria. Sicurezza e disagi sui treni, la risposta della maggioranza ad un'interrogazione dell'opposizione. Restaurata e inaugurata la nuova Sala Gonfalone presso il Parazzo del Pegaso. Il presidente del consiglio regionale Mazzeo alla 163esima Assemblea delle Regioni a Bruxelles. Durante l'ultimo consiglio regionale è stata approvata una risoluzione che impegna la Giunta a istituire un osservatorio regionale sulla desertificazione bancaria, coinvolgendo tra gli altri le rappresentanze istituzionali, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali ma anche i principali soggetti del settore bancario presenti sul territorio toscano, con il compito di monitorare l'evoluzione del fenomeno, raccogliere e analizzare dati aggiornati sulle chiusure degli sportelli, nonché di promuovere soluzioni mirate a garantire la presenza di tali servizi nelle aree più svantaggiate, tenendo conto delle specifiche esigenze dei territori. La risoluzione che ha messo dunque in evidenza il tema della desertificazione bancaria, soprattutto nei piccoli centri, ha visto il sì del PD di Italia Viva e della Lega. Astenuti i 5 Stelle, mentre Fratelli d'Italia non ha partecipato al voto. L'atto che abbiamo approvato con i voti della maggioranza, mi dispiace che il centrodestra non abbia partecipato al voto, non fa altro che recepire le istanze di tanti piccoli comuni, dei sindacati, dei lavoratori del settore bancario e di tanti altri soggetti che ci hanno chiesto di istituire in regione un luogo dove si confronti il mondo bancario, gli enti locali e i soggetti interessati, sia appunto dei lavoratori che dell'associazione di categoria, perché il tema della chiusura degli sportelli bancari sta incidendo in modo molto forte, con una ricaduta che soprattutto nei paesi è molto rilevante, sia in termini di riduzione dei servizi, soprattutto per chi ha più difficoltà di utilizzare il telefonino per i servizi di home banking, ma anche abbiamo visto che c'è un parallelismo tra la chiusura di uno sportello bancario e una maggiore difficoltà di accesso al credito per le piccole imprese di questi territori. Quindi, recependo queste istanze, abbiamo chiesto alla Giunta di istituire il luogo in cui anche il mondo bancario sia chiamato alle proprie responsabilità e siano supportati i piccoli comuni nel discutere appunto con questi soggetti che portano avanti politiche di riduzione degli sportelli, molte volte purtroppo senza neanche avvisare i comuni interessati. A prendere parola durante l'ultimo Parlamento toscano anche il presidente Gianni, che ha annunciato lo stanziamento di 2 milioni di euro in favore di Teatro Toscana. Tale stanziamento è stato necessario dopo la chiusura in perdita nel bilancio 2023. Era stato infatti concesso l'accesso al fondo regionale per ottenere un'anticipazione di circa 1 milione e 100 mila euro, somma che dovrà essere restituita entro la fine del 2024. Gianni, a seguito dello stanziamento di questi 2 milioni, ha chiesto alla Fondazione Teatro Toscana di cercare maggiori risorse dal privato in futuro. Ritengo che noi quando parliamo di teatro nazionale, quindi di teatro della Pergola, con questo il teatro Era-Ponte d'Era, il teatro di Rifredi, parliamo di una realtà culturalmente molto vivace, importante, che dà il senso di una Toscana che fa da avanguardia anche a livello dello spettacolo dal vivo sul piano nazionale. Noi abbiamo confermato l'impegno con 2 milioni di euro a supporto del contributo per l'attività del teatro nazionale e devo dire che spero che possano, attraverso i programmi del Consiglio d'amministrazione, venire a supportare e a rafforzare questa idea di una Toscana che sul piano culturale è in qualche modo riferimento per tutta Italia. Nei giorni scorsi si è tornati a parlare anche del rigassificatore di Piombino, dopo le perplessità della maggioranza sul futuro della nave che al momento si trova presso il porto toscano. Il governatore della Liguria, infatti Bucci, si era dimostrato contrario all'arrivo nel 2027 del rigassificatore. Ecco che il presidente della regione Calabria, Occhiuto, si dimostra disponibile ad accogliere la nave nel porto di Gioia Tauro. L'annuncio è arrivato dall'onorevole Donzelli e ha trovato il favore del gruppo Fratelli d'Italia in regione. Le dichiarazioni dell'onorevole Giovanni Donzelli smentiscono un po' i uccelli del malaugurio e i detrattori del governo. C'è questo interessamento della regione Calabria per il porto di Gioia Tauro che andrebbe a sostanzialmente formalizzare quello che era un impegno già preso al termine del mandato per il gasificatore a Piombino. C'è anche questa ottima notizia di Metinvesti con JSV che il Ministero del Madenita li sta portando avanti, dovrebbe concludere il 7 novembre questo aspetto che consentirebbe nel frattempo anche l'avvio di quella riqualificazione dello scalo portuale che è interesse primario del sindaco Ferrari per ripagare una comunità che ha sostanzialmente ampiamente pagato un impegno nei confronti di tutta Italia. In aula si è anche tornati a parlare dei disagi sulle linee ferroviarie della regione. L'opposizione a seguito di un'interrogazione dello scorso luglio ha ascoltato le dichiarazioni della maggioranza sulla situazione di cantieri e di servizi da parte della regione, arrivate proprio a metà novembre durante l'ultimo consiglio. Una situazione che secondo la minoranza non è però cambiata rispetto all'estate con i disagi che continuano ad essere presenti. Noi abbiamo presentato questa interrogazione lo scorso 24 luglio all'apice dei disagi determinati dalla moltiplicazione di tantissimi cantieri sulle linee regionali che avevano generato non pochi disagi per i pendolari che ancora lavoravano o studiavano. Purtroppo la risposta è arrivata solo oggi, 12 novembre, a distanza di quasi 100 giorni ma purtroppo la situazione non è sostanzialmente cambiata anche per colpa dell'alta velocità che ha soprattutto su alcune tratte, per esempio nell'Aretino, una commistione con le linee locali e genera tanti ritardi. Ma questi ritardi e questi disagi ci sono anche su altre linee. Per esempio oggi nella tratta tra Firenze e Via Reggio, in particolar modo a Pisto e Prato si sono registrate cancellazioni di treni, ritardi, notevoli disagi che naturalmente esasperano i pendolari e soprattutto generano accaduta tantissime conseguenze soprattutto sulle città, in modo particolare Firenze ma non solo e quindi un aumento dell'inquinamento. Abbiamo chiesto anche all'assessore e siamo in attesa di ricevere copia scritta all'interrogazione perché i dati sono tantissimi. L'attuale andamento dei lavori perché ci sono ancora tantissimi lavori su tantissime tratte, Lempoli-Siena, Valdarno, lo stesso raddoppio fra Montecatini e Pistoia e soprattutto un aggiornamento sull'alta velocità e sulla realizzazione della stazione sotterranea a Firenze. In questo caso ci è stato confermato che gli scavi stanno proseguendo secondo il cronoprogramma e per il collegamento invece in superficie fra la stazione nuova di realizzazione e la stazione Santa Maria Novella abbiamo appreso che c'è un progetto presentato da RFI al Ministero che è in attesa della valutazione di impatto ambientale, l'ultimo passaggio è del giugno scorso che dovrebbe realizzare una serie di binari, spostare una serie di binari locali a una nuova stazione in superficie e collegare attraverso la tramvia e il People Mover non sappiamo con quali costi e con quali disagi per i cittadini fiorentini la nuova stazione a Santa Maria Novella. Avremo presto nuovi aggiornamenti anche perché abbiamo chiesto di andare in quarta commissione convocando nuovamente Trenitalia e RFI anche perché, ed è l'ultimo elemento la regione toscana è firmataria di un contratto di servizio che scade addirittura nel 2034 soprattutto per i treni regionali e su questo ci aspettiamo maggiore incisività da parte dell'assessore della Giunta nei confronti dei soggetti gestori. A margine del Consiglio regionale è avvenuto anche il taglio del nastro della restaurata Sala Gonfalone, lo spazio del Palazzo del Pegaso dove si trova il simbolo della Toscana e che fu realizzato in occasione delle nozze alla fine del 1700 tra Zanobi Covoni e la baronessa Teresa Ricasoli. Grazie alla volontà del Consiglio e sotto la supervisione della sovrintendenza sono stati tolti gli strati di vernice ritrovando così il colore originale e alcune decorazioni che non erano visibili fino a ieri. Io sono orgoglioso di quel lavoro, se non lo avete visto vi consiglio di farlo è ritornato ai suoi fasti, alla sua origine, nel colore originale, nella bellezza di una sala che rende ancora più belli i nostri palazzi. Ora è il tempo di aprirli i palazzi, non devono essere per i consiglieri regionali o per chi lavora ma l'idea è quella di farli diventare veri e propri musei, spazi in cui i cittadini e le cittadine possono venire a visitarle. Io quando sono diventato Presidente del Consiglio regionale mi sono ritrovato con un palazzo in cui da tempo non venivano fatti investimenti. Invece ho detto che ho voluto che si tornasse ad investire, a rendere più belle le nostre sale. Ripeto, non per noi, perché questa è la casa delle cittadine e dei cittadini toscani e deve essere resa ancora più bella. I lavori qui, il lampadario nel Salone delle Feste di Palazzo Bastoggi, insomma, lasciamo a chi verrà dopo di noi ambienti ancora più belli. Nel mese di novembre, mercoledì 20, il Presidente del Consiglio regionale, Mazzeo, ha partecipato alla 163esima Assemblea Plenaria del Comitato delle Regioni in Europa che si svolge a Bruxelles. Mazzeo è intervenuto nel dibattito sui 30 anni del Comitato Europeo delle Regioni, gli enti locali e regionali plasmano il futuro dell'Europa e quello sulla COP29 e il ruolo cruciale sui leader locali e regionali nella futura azione globale per il clima. Infine, Mazzeo si è espresso anche sulle sfide e le opportunità dell'intelligenza artificiale nel settore pubblico e sul definire il ruolo degli enti locali e regionali. I cambiamenti climatici stanno segnando la vita di ogni territorio. Le immagini terribili, le tante morti a Valencia, quelle che hanno toccato la nostra comunità, segnano le coscienze di ciascuno di noi. È il tempo di agire, è il tempo di non seguire i negazionisti del clima perché l'emergenza legata al cambiamento climatico è un'emergenza attuale, non del futuro. Bisogna mettere in campo tutte le azioni possibili, anche pensare ad un fondo per la prevenzione. È il tempo delle scelte veloci, è il tempo delle scelte per i territori, per la salute delle persone e per il benessere delle persone. Intanto direi finalmente siamo riusciti a comporre la Commissione, mi auguro del Parlamento le voti velocemente. Noi abbiamo bisogno di un governo europeo solido. La vittoria di Trump negli Stati Uniti sarà destabilizzante per noi, cercherà di dividere l'Europa. Invece noi abbiamo bisogno di un'Europa più forte. Io la valutazione su Fitto la vorrei fare nei prossimi mesi. Fitto avrà una delega importante, le politiche di coesione. Io mi auguro che davvero la porti avanti, non come la gestione dei fondi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono stati centralizzati, ma che quelle risposte sulle politiche di coesione nascano dai territori. E noi, come Comitato delle Regioni, su questo vigileremo molto. L'intelligenza artificiale segnerà la vita di ciascuno di noi, è già pervasiva nelle nostre vite, anche in quelle della pubblica amministrazione. Questo parere è un modo per dare indirizzi ai territori. Noi, come Regione Toscana, nella prossima seduta del Consiglio regionale, approveremo una legge in questa direzione, che tiene conto di molti di questi principi, che ha l'obiettivo di avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini, di renderla eticamente migliore e di renderla più trasparente. E questa è la sfida del futuro, avvicinare le pubbliche amministrazioni a tutti i livelli, da quello europeo a quello locale, alle cittadine e ai cittadini, per offrire servizi migliori. E l'intelligenza artificiale su questo potrà aiutarci molto. È tutto da Cronache e commenti anche per questa settimana. Ci avviciniamo alla fine dell'anno e ovviamente la Regione andrà anche poi a stilare il bilancio del 2024. Intanto andiamo con ordine, la prossima settimana si riunirà di nuovo il Parlamento Toscano e dunque saranno dibattuti altri argomenti che vi andremo a raccontare fra sette giorni. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS